A tutti coloro che pensano che la proposta del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle non abbia le coperture, rispondiamo che basta che i partiti non si rubino i nostri soldi e ci sono coperture per dare il reddito di cittadinanza a tutti coloro che sono in difficoltà. È notizia di oggi, ma il Movimento 5 Stelle, i consiglieri di Roma, Frongia, Stefano, Virginia Raggi e Marcello Di Vito hanno fatto mesi fa esposti, che l'assessore di Marino in prota è indagato per la Metro C. I costi della Metro C di Roma sono lievitati, Presidente, di un miliardo di euro. Com'è per rubare i soldi ci stanno sempre per dare un reddito ai cittadini in difficoltà i soldi non ci stanno, secondo voi? Ecco, per quanto riguarda lo scandalo costi Metro C di Roma è anche indagato in calza, arrestato, difeso dall'ex Ministro Lupi. Ecco, è molto importante che i cittadini capiscano che qua non si tratta più di destra, sinistra, Forza Italia, PD, Lega, SEL, ma di legalità contro illegalità istituzionalizzata. Grazie, Presidente.